Esordì sulle scene all'età di 13 anni presso una compagnia filodrammatica, e divenne inseguito un affermato attore di varietà. Nel 1908 esordì nel cinema, e partecipò alle riprese di un film d'avanguardia e dal titolo L'uomo dalla testa dura diretto da, Edoardo Bencivenga. Successivamente venne scritturato dalla Milano Films come, comparsa, nelle comiche di Cocciutelli, Edoardo Montus, e Bonifacio, e Mil Vardan. In seguito si trasferì a Torino, all'epoca capitale del cinema italiano, dove trovò impiego prima all'Ambrosio Film e poi all'Italafilm, in quest'ultima casa cinematografica. Minotti fu uno degli attori principali e interpretò una gran quantità di pellicole, tra cui L'Emigrante, 1915, Scacco Matto, 1919, La Fabbrica dell'imprevisto, 1920, e alcuni titoli della serie maciste girati fino al 1925. Per tutta la sua carriera alternò tra il cinema e il teatro, dove si affermò come attore drammatico, in particolare nell'interpretazione del dramma I figli di Nessuno di Ruggero Rindi, nel quale ottenne un notevole successo personale. La sua attività di attore cinematografico proseguì dopo l'introduzione del sonoro, e nel periodo tra le due guerre, dal 1930 al 1964 fu interprete di una cinquantina di film, prevalentemente in ruoli minori, oppure da, comparsa, o attore caratterista. Fu anche regista di un film del 1936 De Calitri titolo Conquistatori d'Anime, interpretato da missionari, e svolse anche l'attività di ispettore di produzione.